Sì, abbiamo letto anche noi, ovviamente noi non abbiamo potuto vedere il luogo in cui tutto è venuto, è in un casolare alle nostre spalle, non lo vedete perché è coperto da tutte queste serre ed è appunto lì che è stato ucciso il piccolo insieme alla sorella Alessia e alla madre Alexandra e al padre Diego Tardino, proprio come dicevi. Sì, una vicenda veramente raccapricciante, le indagini sono in corso, sono stati ascoltati anche i parenti delle vittime alla caserma dei Carabinieri di Licata per cercare di capire le ragioni di questo gesto. Si parla di motivazioni economiche probabilmente legate proprio a questi terreni lasciati in eredità dal padre ai due fratelli. Gli stessi parenti raccontano che tra i due non corresse buon sangue da tempo. Ecco, Agnese, ci sono stati diverse, almeno da quello che abbiamo appreso, diversi precedenti, che su due fratelli litigavano molto. Forse i colleghi dell'esterno ci possono anche aiutare. L'azienda contesa, i terreni contesi probabilmente sono quelli che vediamo alle nostre spalle. Quindi si tratta di un litigio per puri motivi economici, una contesa probabilmente per poter utilizzare, coltivare, quindi sfruttare economicamente dei terreni che noi, sempre se ci aiutano i colleghi dell'esterna, dovremmo poter vedere. Perché questa alle tue spalle credo che sia proprio l'attività di famiglia. Sì, ci sono dei terreni, sì, ci sono delle serre, ci sono dei carciofi. Questo in particolare è l'azienda del fratello, una delle vittime, proprio Diego Tardino. E, diciamo, ripeto, non lo vedete probabilmente perché c'è questo suolo di serre e dietro c'è il casolare dove è avvenuto tutto. Le salme poco fa sono state portate via e sono andati via anche gli uomini della scientifica. Quindi i rilievi si sono conclusi poco fa. È stato appunto, da stamattina alle 7, sono stati lunghi ovviamente i rilievi di fronte a una strage di questo tipo. Anche perché mi sembra la dinamica sia, da questo punto di vista, molto chiara, no? L'assassino si è presentato questa mattina, ha bussato, ha suonato, ha bussato alla porta del fratello. Quanto sia durato, diciamo, il confronto tra i due, la vita tra i due, non lo sappiamo. Sta di fatto che l'assassino ha estratto una pistola e ha sparato prima contro il fratello, poi, come hai detto, come ricordavi, contro la moglie Alessandra e poi questi due bimbi, Alessia di 15 anni e Vincenzo di 11 anni. Poi è scappato, i carabinieri sono messi immediatamente sulle sue tracce. lo hanno chiamato al telefono cercando di convincerlo di arrendere. Se no, dicono, guarda che sappiamo che sei stato tu, sappiamo dove sei, veniamo a prenderti, non fare niente, metti la pistola a terra, stai tranquillo, ma durante questa telefonata l'uomo si è sparato due colpi di pistola, non è morto immediatamente, è stato portato in ospedale, ma di fatto per lui. Stiamo vedendo le immagini che si riferiscono proprio, credo, ai primi momenti di questa tragedia. Agnese, ti chiedo di rimanere in collegamento con noi. Io saluto i nostri ospiti, vado però, come di consueto, dalla dottoressa Bruzzone, perché in questo orrore, in questo abisso di male, di ferocia, in questo essere spietati, io posso concepire, posso capire, dottoressa Bruzzone, che ci sia un odio verso il proprio fratello, un'eredità contesa, ma rivolgere l'odio contro un bambino di 11 anni che si nasconde sotto il letto, spaventato da rumori, da colpi di pistola, contro una bambina di 15 anni. Perché? Perché lì subentra proprio la volontà di annientare tutto ciò che è in qualche modo riconducibile all'oggetto primario dell'odio. Un po' la logica del Moia Sansone e tutti i filistei, fondamentalmente. Cioè, quello che è mio, se non posso averlo io, non lo deve avere né lui, il principale, diciamo, contendente, né tantomeno i suoi figli o la sua famiglia. Ecco perché la decisione deliberata e lucida di ucciderli tutti. Perché, dal suo punto di vista, nessuno di loro doveva avere accesso a quel bene, a quell'eredità, a quel denaro, a quella terra, dal suo punto di vista. Allora, quando spesso diciamo che persone che commettono questi gesti si condannano alla fine a una pena o detentiva senza fine o addirittura alla morte. L'assassino aveva anche una famiglia, aveva una moglie, aveva due figli. Anche lui, tra l'altro, due figli più o meno della stessa età, da quello che sappiamo dei bambini che ha ucciso. Come può non essergli passato neanche per un istante il pensiero? Eh ma, paradossalmente, Milo, è proprio questo il punto. Cioè, lui ha sterminato l'intera famiglia, proprio per agevolare, probabilmente anche dal punto di vista dell'eredità, la sua. Quindi, lui ha eliminato tutti gli ostacoli, in modo tale da garantire quella evidente, quella interessante, appetitosa eredità, se non ne conosciamo l'entità, per fare in modo che andasse alla sua di famiglia, e ai suoi dieredi. Allora, saluto il dottor Valerio De Gioia, che è un magistrato, gli amici di Oro Equatorici lo conoscono, e non solo, lo conoscono molto bene, perché è uno dei magistrati impegnati, più impegnati nella lotta a tutela delle persone fragili, l'applicazione del Codice Rosso, e tutto quello che attiene alle persone che hanno bisogno di essere protette e aiutate. Dottor De Gioia, intanto è, diciamo, ancora una volta dobbiamo parlare di una tragedia della follia, che non si poteva evitare, che non si poteva fare nulla, non era prevedibile, però questi litigi andavano avanti da tanto tempo, i carabinieri erano informati della situazione. Sì, qui la tutela dei soggetti vulnerabili, abbiamo due giovanissime vittime, e lo Stato ha fallito nel suo obiettivo, perché un soggetto che con questa semplicità appare, è riuscito a sterminare un'intera famiglia, fa sì che debbano compiersi delle indagini accurate, non tanto per la responsabilità dell'uomo, perché c'è un principio generale in base al quale la morte del reo in qualche modo estingue il reato, quindi non ci sarà un processo all'uomo che si è tolto la vita. Verosimilmente le indagini si dovranno concentrare per capire se vi erano state delle minacce, delle denunce, degli atti violenti posti in essere da quest'uomo, e in quel caso verificare se c'è stato un tempestivo intervento, o i motivi per i quali non gli è stato revocato il permesso di detenere questo porto d'armi che in qualche modo gli ha consentito. Sì, perché poi questa è una vecchia questione, in trasmissione ne abbiamo parlato più volte, perché se un domani dovesse emergere, visto che il porto d'armi passa da una certificazione medica che viene rilasciata e che attesta non soltanto le condizioni fisiche, visive, ma anche le condizioni psicologiche, cioè il fatto che un soggetto non abbia dei disturbi a livello di natura psicologica, ecco, se dovesse emergere che c'erano delle avvisaglie o che questo soggetto era in cura, aveva dei disturbi di natura psichiatrica, ecco lì potrebbe aprirsi un filone dell'attività di indagine volta ad accertare chi ha sottoscritto e rilasciato una certificazione che gli ha consentito di detenere le armi, perché la mancanza originaria o sopravvenuta di questa fondamentale condizione, non possiamo lasciare le armi in mano a un soggetto instabile a livello mentale, porta poi alla responsabilità del medico che ha sottoscritto quella certificazione, sia per la falsità ideologica nell'attestazione falsa, sia per l'omicidio colposo, perché in questo caso risponde di omicidio colposo. Io spero che questo non sia il caso, ma l'attività investigativa presto ci darà una risposta. Allora, intanto arrivano subito la parola ai nostri ospiti, continuano ad arrivare le conferme del fatto che tra i due fratelli non corresse, diciamo non ci fosse grande armonia. Una vicina di casa, leggo in un flash di agenzia, ma chiedo conferma all'inviata della TGR Sicilia, che intanto ringrazio sia la testata, la TGR sia ovviamente la collega per queste informazioni, questo collegamento. Una vicina, Agnese, dice che tra i due continuavano a litigare, era un litigio continuo, avevano sempre liti. Ce lo confermi? Sì, da più parti a chi li conosceva dicono tutti la stessa cosa, che loro litigavano da tempo, addirittura c'è chi dice che proprio la scelta del fratello Diego di trasferirsi qui in campagna sia proprio legata alla volontà di mettere distanza, di allontanarsi dal fratello. Vediamo se ci sono, riusciamo a ripristinare. Tra i due non corresse buon sangue da molto tempo.